Ed è con piacere che questa sera abbiamo con noi la Presidente dell'Associazione Prisma, Lorenza Rizzi. Buonasera. Buonasera. Dunque parliamo di questa associazione culturale nata nella primavera del 2023. Come nasce l'idea appunto di creare questa associazione? Nasce dall'idea e dai sogni di un gruppo di amici che dopo un periodo piuttosto lungo dove ha dovuto rinunciare a tutte le cose che li appassionavano per cause di forza maggiore, costretti dalle circostanze, hanno deciso di ricominciare a partecipare a delle mostre, a partecipare a concerti, a viaggiare, a fare proprio tutto quello che in qualche modo li nutriva interiormente hanno pensato di poter proporre loro stessi delle attività che in qualche modo li facessero crescere, li nutrissero, ma che potessero anche, così, essere di spunto per tutti, per la cittadinanza in questo caso. E nella primavera dell'anno scorso è nata appunto Prisma, una nuova APS che in qualche modo già nel suo simbolo, questo diamante, tutto sfaccettato, da un po' l'idea degli intenti dell'associazione. Le sfaccettature rappresentano un po' innanzitutto le caratteristiche del gruppo fondante, che è un gruppo di amici a cui si sono aggiunte delle altre persone inizialmente, ma che, diciamo, condividevano gli stessi intenti. E poi, diciamo, le sfaccettature rappresentano le caratteristiche e anche di diversi eventi che vogliamo organizzare, iniziative. Ne avete già fatti alcuni, insomma. Sì, siamo partiti anche per così cominciare a tararci, a calibrarci, con delle passeggiate tematiche e con dei risvegli muscolari, partendo dalla pratica yoga. Per arrivare al primo evento del 2024, che è stato venerdì scorso, e abbiamo promosso una conferenza presso Spazio Comune e abbiamo, infatti, avuto il patrocinio del Comune di Cremona, che ringraziamo, per, appunto, promuovere la conferenza tenuta dal dottor Artemio Fokker riguardo a questi viaggi spazio-temporali del romanticismo tedesco. Il professor Fokker, infatti, è docente di letteratura tedesca presso il Dipartimento dei Beni Culturali e di Musicologia dell'Università di Pavia. Quali sono i prossimi eventi che avete in programma? Allora, i prossimi eventi, proprio per promuovere degli eventi che generino, in qualche modo, il movimento, sia fisico che intellettuale, che, perché no, interiore, perché ci interessa, per noi stessi, promuovere queste iniziative, perché ci piace, perché ci dà un significato, un senso, ci fa crescere e speriamo che questa modalità si riverberi sugli altri. Abbiamo in programma, segnatevi la data, per il 23 di marzo, non posso ancora anticipare dove, perché stiamo attendendo il patrocinio del Comune, un incontro con il professor Rizè, Claudio Rizè, che è un noto psicoterapeuta, che ha scritto alcuni test, ne ha scritti parecchi di libri, ma in particolar modo riguardo la figura del padre. E ci sarà questo incontro con l'autore, ovvero con Claudio Rizè, per parlare dell'ultimo testo sul ritorno del padre, che è una tematica, quanto mai, oggi attuale e interessante. Benissimo. Grazie, dunque, a Lorenza Rizzi per essere stata con noi. Arrivederci. Grazie, grazie. È tutto per questa edizione. Vi ricordo l'informazione torna puntuale alle 19. Arrivederci. Grazie. Grazie.